Filippe Carcentic è un francese all'estero, quindi prenderà i suoi voti in alcuni paesi, in un collegio che comprende anche l'Italia, lui si presenta come indipendente per il centro-destra. Voi pensate che la vittoria della sinistra ci sarà anche alle elezioni di giugno, alle elezioni parlamentari, quindi stabilendo definitivamente una gestione a sinistra della Francia o c'è qualche possibilità anche per voi? Guardi, il funzionamento costituzionale della Francia o democratico, il funzionamento democratico, fa sì che quando un Presidente viene eletto, l'Assemblea nazionale segue il movimento del Presidente che è stato eletto, quindi ci sono delle grosse possibilità, direi quasi la certezza, che ci sarà un Parlamento di sinistra. Parallelamente c'è un problema anche da parte del partito dell'UMP, di Sarkozy, che viene distrutto dall'interno malauratamente. Ci siamo resi conti che i capi di questo partito politico dopo la sconfitta di Sarkozy si stanno tutti facendo battaglia gli uni con gli altri. Il partito di Sarkozy, l'UMP, è un partito che probabilmente, direi, che andrà a spaccarsi, a smembrarsi in diversi pezzi e ci sarà la guerra dei capi, dei leader. Quindi sì, la sinistra vincerà e io, in quanto indipendente di centrodestra, ho una possibilità in questo momento di poter, direi, partecipare alla ricomposizione della destra francese ed è davvero un'opportunità incredibile in questo momento per sviluppare valori molto più liberali e molto più aperti rispetto a quelli che abbiamo avuto adesso con il partito unico della destra che ha completamente soffocato il dibattito politico. La sconfitta di Sarkozy è il risultato del fallimento di questo partito, dell'UMP? Vedremo perché credo che con la fine politica di Sarkozy si apra un notevole spazio anche per Marine Le Pen, che era la più interessata e che Sarkozy uscisse di scena probabilmente. Allora, sì, ma il problema è che è Sarkozy che ha fatto salire Le Pen. Noi non siamo riusciti a risolvere il problema che bisognava risolvere. Poi sono stati ripresi tutti i problemi politici di Le Pen. Sarkozy aveva delle ottime idee alla partenza, ma poi non è riuscito ad applicare la sua posizione. Quindi adesso la possibilità che abbiamo con la ricomposizione della destra e direi la dislocazione dell'UMP è creare dei partiti di destra, di centro-destra, che potranno riprendere il percorso della Le Pen e che potranno fermare l'estrema destra. Quindi il risultato di cinque anni di Sarkozy è che il 20% di Marine Le Pen, il 10% di Mélenchon, significa 30% di estremismo in Francia. Poi più il 20% di estensioni. Quindi davvero adesso ci siamo resi conti che il partito unico della destra non funziona assolutamente.